ciao a tutti siamo sempre il nostro pezzo di orto dell'altro giorno quando abbiamo piantato di spinaci ho lasciato tre file perché oggi parliamo di piselli seminiamo questo il mezzarama allora siamo a ottobre i piselli si possono seminare da settembre novembre più o meno è una buona leguminosa non ha bisogno di molte cure resiste bene al gelo quindi non vi dovete preoccupare se arriva il freddo verso dicembre gennaio la pianta si ferma un attimo e poi riprende quindi non ha bisogno di grosse grosse cure se volete seguire le fasi della luna si semina in luna crescente se invece non la seguite come me perché lo fate quando avete il tempo libero allora un giorno vale l'altro i semi vanno distanziati l'uno dall'altro di circa 30 centimetri e tra le file un 60 70 centimetri tenete conto che io ho lasciato più o meno quello spazio per passare poi con molto coltivatore una volta appoggiati i semini per terra vanno ricoperti con un paio di centimetri di terra non di più non hanno bisogno di altre cure la semina dei piselli come tutti i legumi fagioli e quant'altro lenticchie è indicata anche per apportare azoto utile alla vita del terreno quindi è un doppio vantaggio insomma avete dei buoni legumi e fate bene al terreno come vedete è una coltivazione veramente semplice da fare mezzo kg di piselli io che li pago cari li ho pagati circa 3 euro 80 ma li trovate anche a meno di altre marche questa è una buona marca comunque perché ha un buon tasso di germinazione per i piselli tutto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video